Il romeno Alexandru Colteano ha proposto ricorso in appello contro la sentenza di condanna a 15 anni e 4 mesi di reclusione, la più alta emessa dal GUP di Lanciano l'8 ottobre scorso per la cruenta rapina in villa ai danni dei coniugi martelli. Nel deposito di appello i difensori di Colteano hanno sostenuto in primo luogo l'abnormità della sentenza per violazione del diritto alla difesa, in quanto il giudice, pur accogliendo la richiesta di concessione di un termine a difesa nominata 5 giorni prima, ha comunque disposto l'inizio della discussione. Il provvedimento definito dai legali bizzarro è contraddittorio al punto da integrare gli estremi dell'atto abnorme, perché da un lato il giudice ha ritenuto di dover riconoscere le esigenze previste e tutelate dal codice di procedura e dall'altro non ha inspiegabilmente concesso il termine minimo pur previsto dalla legge, dando addirittura la parola al pubblico ministero per la requisitoria. La stessa difesa ha inoltre proposto la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio d'appello per avere il GIP immotivatamente respinto le richieste formulate a seguito dell'esposizione di un alibi da parte dell'imputato, che ha asserito in sede diritto abbreviato di aver pernottato all'albergo Alba di Lanciano la notte della rapina e di aver avuto contatti telefonici con varie persone da riscontrare con il controllo delle celle telefoniche. Sono state sei le condanne complessive per i componenti della banda romena. Il ricorso in appello scade il 22 novembre e sono già pronti ma non depositati quelli degli altri cinque condannati in primo grado con rito abbreviato.